Ciao, ciao al canale Enkite! Oggi io sono con mia zia Anastasia Tadà! Signori, signori! Oggi? Oggi proviamo a fare un sand art, facciamo artisti del sand art Diciamo, si chiama bello sand art, però in sostanza è che giochiamo un po' con la sabbia Cosa disegniamo oggi? Allora, oggi disegniamo personaggi da un libro che... Hai fatto tu zia! Sì, sì, ho fatto io con una mia amica Alessia che ha scritto la storia e io ho fatto l'illustrazione Perché io ho una parte creativa più che... Il libro si chiama Sbuffo la magia del Natale Lo facciamo questo elfo Facciamo questo elfo? Sì, questo qua, sei pronta per il challenge? Io non sono capace Dai, dame cinque Più forte! Ah, così, siamo pronti! Allora, prima cosa bisogna prendere un po' di sabbia E lanciarla come la tremorella Sai, c'è la tremorella Perché tremano le mani così Tipo una specie di ammalattia No, no, dai, non facciamo la moti però facciamo le mani tremare così Ah, capisco! Dalla tua parte, dalla tua parte, così, prendi Così, così, guarda Così E che deve spargersi molto... Ah, capisco Fermati un attimo Allora, il challenge è che praticamente abbiamo uno sfondo già precolorato E noi dobbiamo fare pulire la forma del viso di questo Sarebbe un po' a pera con due orecchie A pera Come a peroso Dobbiamo fare un... Praticamente buco nella sabbia a pera, guarda Pera Così, più grosso Allora, stavo pensando già all'inoni Il mio sembra un po' un topo, il cappellino, se io non ho spazio, te lo faccio in miniatura. No! Non, mi venuta Mia Però fai da qua, adesso Che sperdo Direi che siamo stati super bravi Questo è il sbuffo E il suo cugino Giusto Questo qua è lo sbuffo originale Questo qua è Quando si sveglia un po Un po' grossotello Ha mangiato un po' tante caramelle Allora oggi abbiamo provato A disegnare con la sabbia Ti è piaciuto Nikita? Ovvio però è stato difficile Sì è difficile perché anche guarda Tanti artisti faranno fatica Soprattutto per la prima volta E oggi è stata proprio la prima prima volta Dammi 5 Ah ma si Ah 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 Ciao dal canale Nikita mettete like Iscrivetevi al canale Nikita Ciao 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 iscrivetevi Ciao 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 ciao